Il 18 maggio si celebra l'International Museum Day, una data importante nella quale ogni museo si sforza di raccontare qualche pezzo significativo delle proprie attività. Ma questa data è molto vicina a un'altra data per noi simbolica, il 19 maggio del 1916, quando l'Erable e il celebre Apollo di Velio tornarono alla luce dopo circa 2500 anni, con la loro policromia ancora perfettamente intatta e le loro sembianze che incantavano non solo Natale Malavolta che era presente, ma da lì a pochi anni tutto il mondo. Artisti contemporanei guardavano ai gruppi che decoravano la sommità del Tempio di Portonaccio Sacro a Menerva come un modello al quale ispirarsi anche in contrapposizione a quella classicità che si faceva largo approfittando dei climi nazionalistici. La Madonna è stata rinvenuta alcuni decenni dopo e è stata oggetto di interventi diversi rispetto a quelli dell'Apollo e dell'Erable, ma è rimasta nello stato attuale fino ad oggi. Non ha avuto quegli interventi di restauro e di cui invece hanno beneficiato circa 15 anni fa l'Apollo e l'Erable ad opera di Santo Guido. Grazie ad un importante e generoso finanziamento dello studio legale Carbonetti, siamo finalmente in grado di far partire un cantiere che volevamo partisse, fin dal primo giorno del mio insediamento qui a Viglia Giulia. Si potrà finalmente allineare il restauro della Latona a quello degli altri gruppi di Portonaccio. Si potranno risolvere alcuni problemi dei precedenti restauro, un collo troppo lungo, un mento, poco in linea con i canoni dell'arte bionica di questo periodo. E si potrà anche migliorare la qualità della policromea di quest'opera che ci racconta la prima impresa del piccolissimo Apollo, che si vede in braccio alla madre Latona, si vedono solo le gambe ed è intento a colpire con le sue frecce fatate il serpente pitone mandato per uccidere Latona, colpevole di essersi unita a Giove e aver dato origine ai due gemelli Artemide e Apollo. Si tratta di un capolavoro dell'arte etrusca 520-510, opera di un maestro che poco dopo averla realizzata contemporaneamente viene chiamato con la sua bottega a Roma, detta quindi il Superbo, per realizzare la decorazione del più grande Tempio di Roma, ma anche dell'Occidente, il Tempio della Triade Capitolina sul Campidoglio, dove, le fonti ci dicono, realizzerà una quadriga o forse due con un'arte che incantò i Romani e continuerà ad incantarli anche nei secoli seguenti, quando si cercava di mantenere i templi più simili alle tecniche costruttive originali, quelle degli Etruschi, l'argilla, il legno, le materie più umili che hanno reso però grande l'arte degli Etruschi, anche se con maggior difficoltà sfida il tempo e le intemperie. La Latona, l'Apollo, Erard, Ernest sono arrivati oggi fino a noi e costituiscono un orgoglio del Museo di Villa Giulia, uno dei capolavori assoluti dell'arte degli Etruschi. Queste opere tutte potranno finalmente parlare al più alto livello possibile e i visitatori potranno non solo vederle nel nuovo splendore, ma anche ammirare il lavoro dei restauratori in diretta qui dalla sala che le ospita.